Bellissima famiglia, quella di Chiara e Federico. Giocano con i loro figli e loro sono contenti dei genitori che hanno. Quanti leoni ci sono? Un esercito di leoni! Pensa a avere così tanti leoni da curare, amore. Chiara e Federico cercano sempre di farli divertire e devo dire ci riescono benissimo. Sia con Vittoria sia con Leone.